Annullato in Estremis lo sciopero per domani di otto ore alla Magneti Marelli di Sulmona, ma tanti problemi rimangono per i sindacati, dopo la presa di posizione di ieri del sindacato FIOMCGL che aveva annunciato lo sciopero questa mattina alla revoca, dopo che l'azienda ha stoppato il recupero produttivo programmato per la giornata di domani. Ma i sindacati tante cose non vanno giù, compresa la comunicazione dei turni via SMS o WhatsApp ai dipendenti della fabbrica di Sulmona, che produce componentistica per l'automotive. 545 dipendenti dei 650 totali sono in cassa integrazione, questa è stata rinnovata per altre settimane e si proseguirà con 18 turni. L'azienda per il sindacato comunica settimane ulteriori di cassa integrazioni e aveva annunciato al tempo stesso i recuperi produttivi, con i magazzini pieni e i pezzi da recuperare già prodotti. La FIOMCGL è preoccupata in generale per il futuro della fabbrica di Sulmona. Ci sono macchinari obsoleti, dicono, si teme per gli investimenti futuri, una gestione piena di contraddizioni che non rassicura. Di fronte a questa contraddizione, evidente contraddizione, che la FIOMC ha proclamato per la giornata di domani uno sciopero di otto ore sul primo turno di lavoro. Nelle scorse ore, tuttavia, l'azienda ha comunicato di voler recedere da questo recupero produttivo, di conseguenza anche lo sciopero verrà revocato. Lo stabilimento di Sulmona potrà contare solamente sul rapporto con il cliente Stellantis. In modo specifico è stato dichiarato dall'azienda che lo stabilimento di Sulmona ha garantito un contratto con la SEVEL per i prossimi anni. Ma i lavoratori dello stabilimento di Sulmona non lavorano solo per la SEVEL di Atessa. Lavorano anche per altri clienti del gruppo Stellantis. Il 30% di lavoratori non è quindi impegnato sulle lavorazioni per il cliente SEVEL. Ecco, qual è il destino di questo 30% di personale? A questo punto è chiaro che il destino dello stabilimento di Sulmona è strettamente legato al destino dello stabilimento SEVEL di Atessa. Ecco, come FIOM regionale anche, oltre che provinciale, abbiamo negli ultimi mesi lanciato un allarme. Un allarme che riguarda la messa in campo, la messa in attività di uno stabilimento gemello a quello di Atessa che si trova in Polonia. Ecco, chiaramente c'è da chiedersi queste scelte di Stellantis che ripercussioni potranno avere sullo stabilimento di Sulmona.